Nella nostra città succede anche che un cittadino segnala una cosa al comune e il comune cade dalle nuvole. Stiamo parlando di un parcheggio destinato ai disabili. In quell'area costruita dopo il cimitero, in alto, il primo gradone, ci sono lì tre parcheggi destinati ai disabili. Ci racconti questa storia perché è dell'incredibile. Perché non si sa se sono tre i posti o è tutta l'aria, tutta la fila. Sono tre anni che io ogni volta telefono ai vigili, non vedo mai nessuno. Lo scorso anno sono sceso e ho incontrato una pattuglia che faceva delle multe di fronte al cimitero e che ho segnalato questa anomalia. La risposta è stata che loro purtroppo non possono fare niente perché hanno già segnalato all'ufficio tecnico questo inconveniente. Perché ci azzecca l'ufficio tecnico? Perché quei segnali sono stati messi quando hanno fatto il gradone. Per cui non si sa chi deve autorizzare per fare le strisce per terra o è tutta la fila. Nessuno lo sa. Ma no, intanto sui tre posti lo potrebbero fare per garantire ai disabili sui tre posti. Questo l'ho segnalato anche due settimane fa, due o tre settimane fa anche al nuovo comandante dei vigili, che l'ho incontrato qua in via 25 aprile, la quale mi disse andrò a controllare. Fino a oggi non è successo nulla. Non ha detto la data. Non ha detto la data. La data non gliel'ha detto. Lei deve avere speranze che ci vada. Ancora oggi lì parcheggiano. E se ne picchiano che c'è il vigile? No, per loro non c'è il divento perché i vigili non possono fare nulla perché sono state messe abusivamente quando è stata fatta l'aria. Per cui l'ufficio tecnico non ha recepito questo, per cui non hanno fatto né le strisce per terra e tantomeno si sa se la fila... Allora, questa cosa è drammatica quello che ci racconta, perché a pagare le conseguenze non è né il comune né i cittadini dormodotati. Sono persone disabili. Pagarne le conseguenze di queste, diciamo, incongruenze, di questa mancanza di chiarezza, sono persone disabili. Ancora oggi, infatti stavo cercando in questi giorni, se rivedevo il comandante per dirgli, caro comandante, mi ha fatto una promessa. Sempre per molestando che non ha detto la data. Ancora lì non è successo nulla. Grazie.